Dopo quattro round del Tata Steel Chess, ieri abbiamo avuto il primo giorno di riposo e abbiamo deciso di fare il video recap di una delle partite più belle di queste prime quattro giornate, che è la Grandelius Rapport del terzo round, presentata dall'editor e sponsor ufficiale della diretta in italiano. Partendo dall'inizio, Grandelius Rapport, una partita che ieri avevamo promosticato come possibile prima vittoria col nero del torneo, e così è stato, Rapport ha scelto una siciliana con E6, che è la classica siciliana che vuoi utilizzare per confondere un po' le acque all'avversario, scegliere un territorio magari un pochettino minore, poi è entrato in realtà nella principale con cavallo C6, cavallo C3, dono C7, ma vuoi sempre invitare l'altro a giocare linee un po' aggressive? Come è successo in realtà in partita? Sì, qui siamo in una variante Taimanove, il bianco decide di optare per questa variante con G4. Si, G4 molto aggressiva, è una di quelle linee che piace molto al computer recentemente, attacca subito sul lato di Re, prende spazio, si prepara magari a un arrocco corto del nero, poi continua tanto con F3, alfiere E3, donna D2, H4, arrocco lungo, gioca a questo impianto e intanto prende spazio sul lato di Re, H6 del nero, per poter giocare cavallo F6 senza preoccuparsi di G5. Questo Luca, quando giocano H6, è un chiaro segnale che il nero non vuole arroccare corto, vero? Sì, sì, assolutamente, perché comunque hai creato subito un punto di contatto, non vuoi che H4 e G5 arrivi immediatamente, vuoi più portare il cavallo in F6 e vedere quello che fa il bianco, intanto magari giocare A6 e B5, come in realtà è andata anche la partita. Il bianco è proseguito con alfiere E3, cavallo F6, F3 e il nero è subito giocato A6, non si è preoccupato di sviluppare il lato di Re, ma subito ha cercato contro gioco sul lato di donna. A6, donna D2, B5, cavallo E5, cavallo E5 prima di B5 è una scelta per occupare la casa C4. E qui parlavamo delle differenze tra la Neidorf, la Scheveningen e questa posizione, in cui di solito si ha questo tipo di posizione nell'attacco inglese, dove il nero ha già la spinta in D6, che occupa il centro, però dall'altro lato, se non hai fatto D6, vuoi tenerti quel tempo per magari giocare una mossa come B5, cercare subito il controgioco, perché tanto non ti serve subito la spinta in D6, però devi stare attento a eventuali avanzate del bianco con F4 e E5, che qui non pensavamo fossero possibili per il pedone in presa in G4. Invece Grandelio stupisce tutti, sacrifica questo pedone in G4, gioca subito la spinta in F4, che dal via delle complicazioni pazzesche, perché c'è un alfiere B4 molto forte nel nero, ma anche molto difficile da trovare, lasciando proprio il pezzo in E5 e mangiando il pedone in E4, catturando anche il pedone in E5, catturando in C3, ho troppe minacce con il nero, ma dal via delle complicazioni pazzesche di cui Rapport non si è fidato, è deciso di optare per la soluzione un pochettino più semplice, cavallo C4 senza entrare nel sacrificio di pezzo a mossa 11. Quindi opta per cavallo C4, che tra l'altro gioca immediatamente, no? Qui si vede che c'è anche un pedone in presa, no? Perché nel momento in cui Grandelio si è spinto in F4, diciamo che invita anche in un certo senso l'avversario a catturare questo pedone in G4 in difeso. Luca, cosa sarebbe successo in caso di cattura in G4? Sì, in caso di cattura non vuoi mai catturare col cavallo E, perché dopo una spinta E5 non sai esattamente dove mettere il cavallo in F6, perché le case E4 e D5 sono controllate dal cavallo in C3 del bianco, e quindi ti resta questo cavallo e se devi tornare indietro in G8 chiaramente non ti piace. Certo. E il bianco acquista un sacco di attività, può giocare a Rocco Lungo, cavallo E4, l'alfiere va in G2, la torre in G1, e il nero fa fatica, tutti i pezzi a casa è per solo un pedone, e questo è sicuramente un po' troppo. Sì, tra l'altro una delle differenze che dicevamo prima appunto del fatto che il nero ha ancora il pedone D7 è proprio il non controllare il centro e le case nere, e quindi ecco il perché dell'idea di Grandelius. Quindi Rapport opta per cavallo C4. C4, alfiere per C4, donna per C4, E5 lo stesso. A sto punto il nero cattura il pedone G4 e su torre G1 raggiunge questa posizione, callo per E3, donna per E3, dove il nero ha un pedone in più, ha la coppa degli alfieri, però ha tutta questa situazione strana, e il bianco ha delle buone case per i propri cavalli. Però Rapport ha gestito molto bene la situazione, perché non ha giocato, non ha cercato di giocare per D6, che apre la colonna E, ti puoi beccare magari qualche spinta in F5, molto spiacevole. Ha deciso piuttosto di portare l'alfiere sulla grande diagonale, giocando B5 e contrattaccando subito sul lato di donna. Quindi B5, arrocco lungo del bianco, alfiere B7, e dopo Re B1, capendo che la posizione del re in G8 sarebbe stata molto pericolosa, ha optato per arrocco lungo. Alla fine ha arrocato lungo anche il bianco, quindi è difficile un attacco dal lato di donna. Anche se un minimo ci ha provato, perché il bianco ha portato il cavallo in E4 per fare magari qualche torre D3, torre C3 o saltare in D6. Il nero ha subito messo il sicuro Re con Re B8. E qui il bianco non è più riuscito a trovare il modo di proseguire, perché alla fine sì, hai un cavallo che può saltare in D6, però te lo può subito eliminare tramite l'alfiere in F8. Ma l'altro cavallo in D4 esattamente sta lì, ma non sa benissimo cosa fare. Vorrebbe fare un cavallo B3, cavallo A5. Questo è uno dei piani tipici, ma il cavallino E4 in questo momento rimarrebbe in presa. Dopo Re B8, bianco ha fatto questa torre D3 per raddoppiare, torre C8, sia per raddoppiare sia per fare anche torre C3, ma torre C8 per cercare controgioco subito. La torre sta molto bene sulla colonna aperta. Torre GD1 e alfiere E7. La torre in C8 in questo momento non difende più il pedone in D7, ma non serve perché il bianco, come dicevamo prima, non può spostare questo cavallo da D4 per il cavallino E4. La partita prosegue con torre C3, ma qui inizia la fase in cui Grandelius non sa esattamente cosa fare, perché ha fatto questa torre C3 e su donna A4 torna indietro in D3. Quando ti fanno una sequenza del genere, vuol dire che qualcosa è andato storto, ha messo un pezzo in avanti, poi è tornato indietro, non sa esattamente cosa fare. E oltretutto, qui arriva il trucco di Rapport, che coglie la palla al balzo, alfiere per E4. Sì, molto carina. Su donna per E4 arriva anche torre per C2, il cavallo è inchiodato. Potrebbe sembrare che il bianco intrappoli la torre giocando B3, attaccando la donna e attaccando anche la torre, ma donna per A2 chiuderebbe la partita immediatamente. Quindi su alfiere per E4 non si può ricatturare. Grandelius gioca una mossa intermedia molto interessante, B3, così poi difendi il pedone C2, il punto C2 e poi ricattura l'alfiere, ma il problema di B3 è che dopo donna A5, donna per E4, le case nere attorno al re sono disastrose. Infatti, nelle prossime mosse, prima si raddoppia sulla colonna C, F5, il bianco però giocare lì, si disinteressa Rapport, torre C8, torre G3 attaccando il punto G7. Ancora una volta disinteressante la parte di Rapport, alfiere A3, subito a punire il bianco. E qui c'è la pressione su C2, ci sono idee con donna C3, quindi la torre deve rimanere sempre in G3, difendere donna C3, donna B2. E il cavallo non si può spostare, il punto C2 crolla. La torre in D1 deve sempre tenere l'ultima traversa, se no si prende matto anche lì. Tant'è che Grandelius, non sapendo cosa fare, ha giocato H4, così, per prendere spazio sul lato di R. Ma qui Rapport gioca la semplice donna B4, che non ha una grandissima minaccia, ma vuole ancora una volta inchiodare questo cavallo in D4, ogni tanto pensa dei colpi torre per C2, magari, perché il cavallo non può catturare, anche se qui è un po' troppo, perché la donna catturerebbe in C2, si avrebbe una posizione di due torri contro donna, che non è quello che vuole ottenere il... Sì, immaginiamo, insomma, su eventuali torri per C2, appunto donna per C2, e presa di cavallo, insomma. Sì, si può chiaramente fare, ma non è l'ambizione del nero. Tant'è che su H5 gioca una mossa, che può sembrare innocua, torre C3, ma ogni tanto le mosse semplici sono anche le mosse più forti, perché propone il cambio di torri. Su torre per C3, chiaramente donna per C3, più della partita, col matto imparabile, e sulla cattura in G7, comandata, il nero prosegue con torre H3, minacciando il matto di nuovo, con donna C3, esatto, quindi lascia il posto in C3 per la donna. Su un'eventuale torre di tre, come dicevamo per parare la casa C3, basta cambiare le torri in D3, torre per D3, su C per D3 arriva torre C1 matto, su donna per D3, donna E1 deve parare, catturiamo la donna. Ed è matto. E tutti a casa, quindi non può coprire con torre D3, può farlo con donna E1. Esatto, gioca donna E1 per impedire donna C3, ma qui la donna deve difendere la torre in D1, deve difendere il punto C3, e quindi sovraccarico della donna, torre H1 arriva nel momento in cui fa più male, e la posizione è disperata, su donna per B4, torre per D1 è matto, ancora una volta, su donna per H1, donna C3 è matto, ancora una volta, e sulla torre G1, per rimandare l'esecuzione, torre per G1, donna per G1, donna C3. E il matto è imparabile Luca. Qui possiamo dire che il tema principale è stato un'inchiudatura Luca. Sì, sì sì sì, assolutamente. I due alfieri sono molto forti, perché possono sempre creare minacce dal nulla, appena la posizione si apre un attimo, fai fatica, più che altro, a difenderti quando hai i due alfieri, perché non sai come mettere i pedoni, metti i pedoni da un lato, gli alfieri diventano forti dall'altro. E poi con queste, con le torri, gli alfieri e la donna, riesci sempre a creare inchiodature in qualche modo, cosa che i cavalli non possono fare, che possono solo dare i doppi. Ma le inchiodature, se hai donna, torri e entrambi gli alfieri, possono essere micidiali e non riesci più ad uscirne. Sì. Quindi Luca, cosa invece ci insegna questa partita? è che se lasci la coppia di alfieri all'avversario, devi stare molto molto attento, e poi devi sempre, sempre, sempre tenere il re al sicuro, perché appena ti crei dei buchi, lasci spazio all'avversario. Come in questa partita, non ha dato matto subito il nero, l'ha dovuto costruire piano piano, però hai sempre quel problema, che si può verificare magari 10 o 15 mosse dopo. Sì. Infatti, quando ha giocato B3, il bianco non mi ricordo che mossa fosse, ha abbandonato la mossa 30, 31 addirittura, e B3 è arrivata quando 10 mosse prima. Sì. Quindi questo è un po' il problema di quando si gioca con questo tipo di mosse. Sì. Se vuoi vedere altri video recap del Tata Steel Chess 2022, clicca sul video qui al lato ed iscriviti al canale per ricevere aggiornamenti sulle prossime dirette.